Alcuni dati su tutti emergono dalla ricerca Istat sul lavoro femminile. In provincia di Modena gli occupati uomini sono 180.000 mentre le donne occupate sono 145.000 e dal 2022 i posti di lavoro tra gli uomini sono aumentati di circa 1.000 unità mentre tra le donne sono diminuiti di circa 2.000 unità. I numeri che ci sono stati consegnati in questi giorni dall'Istat non ci stupiscono perché noi sono anni che stiamo denunciando questa situazione, c'è una perdita costante dell'occupazione femminile anche nel nostro territorio e ovviamente ci preoccupano fortemente. Prima del Covid a livello nazionale si era riusciti a raggiungere la soglia del 50% di occupazione. Dopo il Covid purtroppo invece i dati ci danno in controtendenza e ci hanno consegnato un risultato tristissimo che è quello di essere diventati l'ultimo paese in Europa per occupazione femminile soprattutto appunto nella fascia più scolarizzata tra l'altro che quella tra i 25 e i 34 anni di età. La crisi del lavoro femminile è cominciata dal dopo pandemia. Se anche c'è stata una modesta ripresa si tratta di lavoro di qualità bassa. Oggi in Italia lavora una donna su due. A livello manageriale solo il 28% delle posizioni di vertice è ricoperto da donne. Il gap salariale tra uomini e donne in qualsiasi settore resta tuttora evidente. CGL esprime preoccupazione anche perché il tema della mancanza o della perdita dell'indipendenza economica delle donne è legato come conseguenza all'aumento dei casi di violenza all'interno dei nuclei familiari. Come invertire questa preoccupante tendenza per il lavoro delle donne? Bisogna innanzitutto investire in maniera strutturale. Quello che è stato fatto in questo paese negli anni è stato di utilizzare diciamo delle sorte di palliativi che non risolvono il problema. Non lo risolvono. Bisogna cambiare intanto il paradigma culturale. Il lavoro di cura deve essere un carico dell'intera società non delle donne. Quindi bisogna investire in infrastrutture che rispondano a questi bisogni perché ricordo che non c'è solo il tema peraltro dei figli, c'è il tema dei familiari anche. Quindi bisogna cambiare intanto questo paradigma culturale. Poi bisogna fare investimenti strutturali. Bisogna utilizzare anche i soldi del PNR per costruire asili, per investire in welfare e non continuare con questa logica dei bonus che non risolve nulla.